Buonasera, questo video per fare la consueta panoramica sulle principali borse internazionali a metà settimana, oggi giovedì 17 giugno, solo le 15.20. Parto come al solito dal mercato italiano, dal future Fuzzimib che nelle ultime sedute sta avendo un movimento laterale. Dopo avere raggiunto lo scorso 8 giugno un importante massimo sul livello 25.925, infatti da quel momento tutti si aspettavano un ritracciamento, in realtà non c'è stato, c'è stato semplicemente un movimento laterale di congestione con poca volatilità anche nell'intraday, quotazioni che sono sempre e costantemente rimaste nell'intorno dei 25.700 punti. Questo è un buon segno, è un buon segno perché indica forza del mercato che quindi potrebbe continuare ad andare al rialzo. I segnali operativi a questo punto sono abbastanza semplici qualora si uscisse da questa lateralità ed è per il long il massimo già citato a 25.925, mentre invece per lo short bisogna perdere il livello 25.515, quindi l'importante supporto dei 25.500 che per molto tempo è stata una resistenza non superata. Questa volta è stata superata, sembra non essere più in grado il mercato di violarla al ribasso, perlomeno al momento e quindi siamo in fase di consolidamento come si sol è dire, ma tutto sommato ci manteniamo su livelli alti e quindi mercato forte, mercato che ha buone possibilità nelle prossime sedute e la prossima settimana di continuare nel proprio movimento rialzista. La positività la troviamo anche sul mercato tedesco, sul Future Dax che proprio nella giornata di lunedì ha realizzato ancora una volta il proprio massimo storico sul livello 15.806, quindi area di resistenza 15.800. Anche qui il mercato è assolutamente impostato rialzo, sostenuto da una trendline rialzista con qualche seduta di ritracciamento ma a cui fa subito seguito qualche strappo rialzista e anche qui quindi l'impostazione rialzista non è messa al momento in discussione. Il primo campanello di allarme potrebbe essere sul livello 15.550 dove passa la media mobile e eventualmente dovesse essere violata al ribasso potrebbe innescarsi un ritracciamento, altrimenti buona possibilità che il mercato la prossima settimana continui il proprio movimento rialzo sempre che l'America lo sostenga e per andare a realizzare eventualmente sempre nuovi massimi storici. Quindi attenzione a livello 15.550 ma altrimenti abbiamo il vento in poppa e dovrebbero essere favorite anche nell'intraday soprattutto le posizioni rialziste long. Un po' diversa la situazione sul mercato americano, in particolare sullo Standard & Poor's 500 che nella giornata di martedì, sebbene nella giornata di martedì sia stato realizzato un nuovo ennesimo massimo storico esattamente come il DAX sullo Standard & Poor's è stato realizzato a 4.267 e in realtà vi è stato nella stessa giornata subito nell'intraday un ritracciamento e anche nella giornata di ieri una seduta decisamente negativa che rimane direi abbastanza negativa anche se non di molto nella giornata di oggi. Quindi qui il ritracciamento è leggermente più pronunciato rispetto ai mercati azionali visti in precedenza, c'è però anche da dire che al pari del DAX il livello da monitorare passa sul livello praticamente il 4.200 dove è posizionata una media mobile che anche questa notte e questa mattina lo ha toccato, ha sporcato con un tentativo di di basso poi assolutamente riassorbito nell'intraday adesso che siamo vicini all'apertura con un bel rimbalzo direi che anche in questo caso questo mercato si mantiene tutto sommato con una impostazione rialzista però qui siamo molto più vicini ai supporti da monitorare. L'inizio di questo ritracciamento al momento come detto sembra essere più pronunciato a mio parere sul mercato americano io sono la mia visione leggermente più debole rispetto ai mercati europei lo vedo, li vedo più deboli compreso il Nasdaq rispetto ai mercati europei per cui penso che forse il ritracciamento potrebbe essere più ampio e a mio parere la discesa potrebbe anche continuare nelle prossime sedute, nella prossima settimana fino addirittura a toccare il livello 4160 dove è posizionato l'indicatore super trend per cui qui starei più attento e andrei meno sicuro nell'apertura di posizioni long e starei invece attento su qualche resistenza a vendere e quindi aprire posizioni ribassiste visto che il mercato americano anche in base alle decisioni comunicazioni e conferenze stampa avvenuta ieri sera da parte della Fed sicuramente gli operatori non hanno preso bene questo inizio di probabile aumento dei tassi che sarà lontano nel 2023 però già annunciato fin da ora causa un leggero sul riscaldamento dell'economia e quindi un aumento dell'inflazione quindi è possibile che questo ritracciamento possa estendersi ulteriormente su livelli più bassi rispetto a quelli attuali. Riguardo alle commodities, il petrolio in particolare beh qui ho appena chiuso qualche giorno fa qualche seduta fa la mia operazione long che era stata aperta al superamento della resistenza dei 67 dollari al barile avevo dato nelle analisi precedenti, nell'analisi della scorsa settimana ma anche in quella precedente un target rialzista fino a 72 massimo 72 dollari al barile, il 72 dollari per fortuna lo ha raggiunto andando anche oltre anche oltre il 72,50 e adesso c'è un piccolo ritracciamento in essere operazione chiusa quindi con 5 dollari di guadagno su questa operazione long qui difficile mettersi nuovamente long sul petrolio nonostante il trend rialzista in corso direi che preferisco aspettare un ritracciamento che possa arrivare anche a 70 dollari 69 e poi successivamente rimettermi in posizione long. Non vado short perché il petrolio è molto forte quindi non ho intenzione di mettermi contro trend, certo non ho il coraggio di mettermi nuovamente long anche se molti dicono che il target potrebbe essere a duratura 75-76 dollari al barile. Io diciamo che al momento mi calmo qui, mi accontento della mia operazione long fatta da 67 a 72 e aspetto nuovi eventuali sviluppi. E' andata a buon fine anche l'operazione short che aveva aperto proprio la scorsa settimana ed illustrata nella precedente videoanalisi sull'oro, sul gold. Eravamo ed ero circa 1876, mi sono messo in posizione short alla violazione della media mobile, avevo date come target 1850 che ho raggiunto nelle sedute successive e lì effettivamente ho chiuso la mia posizione con 25 dollari di guadagno sul contratto oro. Certo non mi aspettavo che ci fosse anche successivamente questa forza ribassista dell'oro che proprio ieri ha addirittura violato al ribasso l'indicatore super trend e sta scendendo rotta di collo anche nella giornata di oggi, fin sotto 1800. D'altro canto si sa il trading è così, è difficile prendere i minimi come è difficile prendere i massimi quando ci sono dei trend solitamente bisogna accontentarsi di prendere porzione di questo trend. Io avevo individuato correttamente poi un trend ribassista e certamente mi ero dato un target a 1850, a 1850 è effettivamente chiuso anche perché oggettivamente a 1850 c'era il super trend che avrebbe dovuto fare da ostacolo, avrebbe dovuto fare da supporto, quindi è molto improbabile che potesse essere rotto. Invece così è successo, non lo potevamo sapere e così è andata. Comunque contento anche in questo caso della mia operazione short andata lautamente in guadagno, mi mangio un po' le mani perché avrei potuto guadagnare il triplo, ma va bene così. Cosa fare per le prossime sedute? Beh innanzitutto adesso 1775 che è il minimo 76 per precisione realizzato oggi potrebbe essere davvero un minimo e mi aspetto per le prossime sedute un rimbalzo che possa andare oltre 1800 fino ad arrivare a circa 1825. Poi credo che dovremmo assistere ad un movimento laterale, aspettiamo che si sviluppi questo movimento laterale in congestione e poi vedremo eventualmente la settimana prossima quali saranno i livelli di long e di short per nuove posizioni. Ma al momento rimango fermo in attesa di questo rimbalzo e di vedere dove va a finire il mercato e se si concretizza in questo ipotizzato movimento laterale tra il 1775 e il 1825. Passando infine alle valute, in particolare all'euro-dollaro, anche qui i livelli individuati la scorsa settimana si sono rivelati corretti, in modo particolare il livello short. Avevamo individuato il più probabile degli scenari che poi si è puntualmente verificato, cioè la rottura di questo supporto sul livello 1,21 che è stato vari massimi, sono stati minimi, scusate, vari minimi che si sono realizzati appunto negli ultimi 10-12 giorni e che erano una calamita forte per il mercato. Questo 1,21 è stato rotto e nella giornata di ieri anche complice, diciamo, quanto detto dalla Fed in serata ha permesso di essere violato, come è stato anche l'indicatore super trend e oggi addirittura sotto 1,20 fino alle quotazioni attuali 1,19,44. Io credo che questa discesa non si sia arrestata, non si stia arrestando, possa continuare ancora oltre e come movimento ribassista vedo un target a 1,19 ma anche un pochettino sotto. Questo, diciamo, per quanto riguarda la settimana prossima, forse anche le prossime due settimane, diciamo, un tempo un pochettino più lungo, anche perché dopo queste due candele rosse in realtà mi aspetto un ritracciamento a rialzo, ovviamente un rimbalzo, sarebbe più corretto dire che possa riportare momentaneamente i prezzi sopra 1,20 fino ad un massimo di 1,20,50. Ma non credo che il rimbalzo si estenderà oltre, ma a quel punto su 1,20,50 già vi dico e annuncio che probabilmente mi rimetterò nuovamente short sull'euro-dollaro perché il target dovrebbe essere 1,19, forse anche sotto per le settimane a venire. Io vi saluto, vi ringrazio per l'attenzione e come al solito vi auguro buon trading. Grazie a tutti.